Riaperto al pubblico a fine maggio, il Museo Valtellinese di Storia e Arte del Comune di Sondrio propone per domenica pomeriggio il primo appuntamento del Musa Family. L'iniziativa promossa dall'assessore alla cultura, educazione e distruzione Marcella Fratta, insieme al servizio educativo dello stesso museo, vuole offrire alle famiglie l'occasione di un pomeriggio alla scoperta delle sale di Palazzo Sassi della Vizzari, accompagnati da una guida. In programma tante sorprese, racconti, giochi e curiosità per fare un viaggio carico di fascino e mistero nel tempo, nell'arte e nella storia. Previsti due appuntamenti, uno alle 15, l'altro alle 16 e 30. Obbligatoria la prenotazione allo 0342 526 553. Ammessi gruppi di cinque partecipanti per volta. Tariffa famiglia 10 euro durata della visita, 45 minuti. Per accedere sarà necessario rispettare le consuete prescrizioni di sicurezza per la prevenzione del contagio. Il percorso museale, spiega il comune, è sicuro e conforme alla normativa, in modo che il visitatore possa godersi la visita in piena tranquillità. Un nuovo modo di vivere il museo, un'esperienza straordinaria a misura di famiglia.